ciao purumat de gravina via vacchia allora ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale art siamo in un nuovo moto vlog come avrete capito e stiamo per tornare a casa perché in effetti è tardi io mi sono fermato ma non non ho tempo di neanche pensare a una sosta allora gravina il tempo come vedete non è bello sono un po stanchino ragà perché comunque questo caldo sfiata sfianca la curate ma forse ho sbagliato strada senza dubbio sbagliato strada no vabbè dai forse forse la ritroviamo la dritta eccola qua eccola qua allora il fatto che nel t07 vale in coppia con un t max a me non va bene onestamente eh allora occhio che qua devo dare la precedenza prena staccatona eccezionale sei impegna dove stai la curva castello svevo a gravina c'è il castello io non lo sapevo vendesi intero stabile e che cosa ci fa è un'officina ma non ho neanche finito mi scusi ma non è la mia che discesone attenzione che arriva la curva attenzione curva a destra piano tomo tomo cacchio cacchio venite ragazzi vittemi quello che volete ma la ponte è bellissima e ora non ho potuto farle ma se venite gravina visitate il ponte romano che è proprio sulla gravina gravina di Puglia si chiama questo è appunto perché è proprio una gravina e il ponte romano attraverso da parte a parte la gravina ed è percorribile quindi se passate qua un giro sul ponte ve lo dovete fare d'obbligo che spavento cazzo grigio povero troppo grazie a tutti grazie a tutti E' uscito un vento trasversario assurdo adesso e mi spinge verso sinistra. E' troppo stretta. 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 Ok. 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 Ok.